Amici di TG Evans, oggi ad Alasso è successo tutto questo. Un gol per un sorriso, per l'associazione Donare un Sorriso strisce la notizia contro gli amministratori locali, ma come sarà andata? Prossima settimana una puntata tutta speciale con servizi, interviste e sorrisi. Ci vediamo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS